Il Comune di Agrigento ha consegnato ieri alla Regione i progetti esecutivi per la riqualificazione della palestra coperta del campo di atletica leggera di Villa Seta. I due impianti erano stati inseriti nello scorso mese di febbraio in una lingua di impianti sportivi che l'assessorato regionale al turismo riteneva bisognevoli di intervento e per i quali ha sollecitato le amministrazioni comunali competenti a produrre progetti per la riqualificazione. Adesso si aspetta che l'assessorato riceva tutti i progetti e predisponga la graduatoria. La palestra coperta di Villa Seta negli anni Ottanti era stata adibita all'Aula Bunker per il primo max processo di mafia e successivamente abbandonato. Anche il campo di atletica leggera negli anni ha perso il suo iniziale splendore e adesso malgrado la buona volontà di qualche privato si ritrova in uno stato davvero di grande precarietà. I due impianti nello scorso mese di febbraio sono stati inseriti tra le opere che l'assessorato regionale al turismo riteneva bisognavo di urgenti interventi. Adesso si attende che l'assessorato stesso predisponga una graduatoria di tutti i progetti in arrivo ma sembrano esserci notevoli margini affinché il tutto vada regolarmente in porto. Grazie. 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 Grazie.